Urca milurca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite ragazzuoli Mi trovo qui perchè come avete letto dal titolo Oggi andremo a sbloccare il grandissimo yacht di Deadpool Vediamo un pochino Ecco qua ragazzoli Danza al party sullo yacht di Deadpool Dai amico uccidimi per favore Perfetto raga Abbiamo fatto Adesso andiamo in lobby e andiamo a vedere se ci è andato lo stile ragazzoli Ed eccolo qua raga Stile di Deadpool Stile senza maschera appunto Eccolo qua in tutto il suo splendore Complimenti stile Deadpool Let's go ragazzuoli Andiamo a riscattarlo Quindi lo equipaggiamo e andiamo a riscattarlo Ed eccolo qua raga in tutto il suo splendore Modifichiamo lo stile E adesso raga avremo lo stile normale con la masca E lo stile unmasked Ragazzuoli grazie a tutti per aver visto questo brevissimo video E niente boys Bella ragazzuoli Al prossimo video bella live Al prossimo video bella